Magia, danza, musica, ventagli, piume, lustrine e comicità per vivere una serata unica, quella che aprirà l'edizione 59 del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folclore. Lo spettacolo dal titolo Comedia in Burlesque è in programma sabato 18 alle ore 21 al Teatro Sibarsi di Castrovillari. L'evento è stato organizzato da Vieventi e precisamente dal castrovillarese Francesco Pucci con un passato professionale di tutto rispetto tra Mediaset e Magnolia, dove è stato per anni produttore esecutivo. È una grandissima novità che la Vieventi porta per la prima volta in tour e con molto piacere apre il Carnevale di Castrovillari ed è una chiave nuova di spettacolo che abbiamo fuso, la comicità e il burlesque insieme, ma per la maggior parte lo spettacolo di burlesque sarà molto soft, sarà uno spettacolo veramente da vedere e più che altro il grande piacere è appunto di aprire il Carnevale quest'anno con questa nuova chiave, con questa nuova realtà di eventi anche al Teatro Sibarsi di Castrovillari. Comedia in Burlesque di Alessandro Pavanelli, Daniele e Ceva alternerà la serata con comici di rispetto Nando Timoteo di Colorado, pugliese per vocazione, sportatore di condizionali come Vorrei, Verrei, non ha mai risolto il cubo di Rubik. Cari amici, vi aspetto il 18 febbraio a Castrovillari per il grande Carnevale al Teatro Sibaris. È Francesco Rizzuto di Zelig, detto Ciccio, il vigile palermitano, ama dire, lo conoscete il traffico di Palermo? È come giocare a scacchi per andare avanti, ti devi mangiare un bedone. Ma guarda che divertite, vi aspettiamo, ma guarda che c'è, ma non ti posso dire quello che potete vedere. A momenti ricchi di atmosfera ritroso nel tempo dove l'immagine della donna e la sua importanza rilevante in questa meravigliosa arte che è il burlesque diventeranno le protagoniste assolute di quadri coreografici. Abbastanza più importanti in Europa, che sono Miss Lamousse e Artesia Starlight. Noi vedremo qualcosa di bello. Diciamo che ancora c'è qualche biglietto, ma si devono affrettare. Si devono affrettare, sì, anche perché è bello vederlo da vicino, insomma. Amici di Castrovillari, sono Artesia Starlight e vi aspetto sabato 18 febbraio per Comedy e Burlesque. Sarò sul palcoscenico insieme alla mia collega milanese Miss Lamousse e due comici di Zelig. Vi aspetto!